Una tratta ferroviaria storica, due binari lucenti che attraversano la terra dell'Osso da Vellino a Lioni. Oltre 80 chilometri su un treno a vapore che tocca tre regioni, ovvero Campania Basilicate e per poche centinaia di metri la Puglia, attraversando le valli dei fiumi Calore, Sabato, Ofanto, facendo tappa alla Pio nella terra del Vino. 8 ciane e 8 pagine saliranno sul treno 8 marzo, treno storico solidale, promosso dalla presidenza del Consiglio regionale della Campania e dall'osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne. A bordo dei passeggeri speciali il dottore Carlo Iannace e le donne delle Amdos e delle Amos Sirpine per dire no al cancro al seno e parlare di prevenzione. Dopo la camminata rosa il dottore Carlo Iannace ha lanciato la sfida della sciarpa rosa da Guinness. Hanno sferruzzato così migliaia di donne, uomini, anziani, bambini di tutta la campagna e non solo, tutti insieme per arrivare ai 13 chilometri di sciarpa. Unica regola, farla a mano e con amore. E così è avvenuto il miracolo con sciarpe arrivate dal Canada, dalla Francia, da tutta Italia, dai paesi più lontani. Perché il dottore Iannace continua a promuovere e portare avanti il suo impegno degli screening gratuiti in tantissimi comuni, insieme alle guerriere rosa delle Amdos e delle Amos. E così domani a Lioni sarà grande festa e tripudio di impegno benefico. Si parte da Vellino, vi aspettiamo domani alle 9 presso la stazione ferroviaria per un omaggio a tutte voi.